buongiorno 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 benvenuti benvenuti è partito cosa dice sembra di sì sembra di sì tui ci dico subito se sta partendo perché sta caricando quindi a parte che stream yard deve essere impazzito sicuramente uo strumenti dice subito di san partiti ci dà quello che non ci ha dato le volte scorse ok è il recupero ne dovrebbe mettere 400 almeno ma questo è sì ci siamo ci siamo ciao e ciao ma anche tui ci ha impazzito vediamo c'è una buonasera neo buonasera oh guarda qua chi c'è guarda qua chi c'è con quanto tempo che non ci vediamo sembra un attimo sembra veramente secondi non aver visto anzi un minuto allora cosa cosa facciamo di bello oggi di che cosa parliamo dobbiamo parlare di di smackdown ultima puntata dell'anno si poteva andare meglio si poteva andare peggio non lo so però vabbè se un paio di cose adesso pian piano strana puntata e si tanto ciao are qui c'è sempre qualche problema ci sta bella puntata e alti e bassi strana e non so definirla non adesso per preparare il lavoro nel dettaglio a piacere vedere fa comunque piacere vedere sino visto che lotto una volta ogni tanto poi però sono stato un po strano ciao gianluca ciao ciao luca e in realtà ci sta almeno 29 minuti ci sta perché comunque avevi detto roman lanes che è quello che john cena si vedeva si vedeva chiaramente che era senza non fiato però poteva fare poco si fa l'attore john cena ormai c'è lui ha avuto i due momenti di hype diciamo con un paio di mosse boh basta c'è lui è andato lì per quello il pubblico era felice lui la contendo perché era tornato per una una notte basta sì non può fare niente soltanto se si rompe un dito cioè fan pagare tante di quelle cose da bwb che la metà basta continua ad avere dei capelli open di john cena sì non si vuole arrendere come ho fatto io che a un certo punto mi sono rasato e dovrebbe arrendersi anche lui all'evidenza invece lui non ce la fa e continua con questa cosa vabbè sì sì ormai non si arrenda l'evidenza ciao settimio ciao settimio è regno di ronda ci arriviamo anche a quello partiamo nel frattempo e il frattanto ma si andiamo partiamo con un bellissimo segmento che possiamo saltare il segmento è stato praticamente l'ingresso di bray wyatt che è durato 20 minuti non so quanto cazzo non finiva più io continuavo a girarmi perché dopo aver visto le luci era sempre lì continua questa storiella con lei dei night continua a far schifo adesso se intromesso anche l'audi che in questo caso è salito su bray wyatt attaccare bray wyatt assiste la bigale esatto e finalmente se poi bene non so se effettivamente poi avremo un match tra bray wyatt e lei night alla rambola però abbiamo quasi un mese di esatto abbiamo ancora un mese di e di questa cosa bellissima una pitch black match quindi boh capiremo poi bene cosa salterà fuori o comunque paura sì non hanno detto che tipo di incontro è al momento quindi boh vediamo non lo so io dopo averlo visto per la seconda volta sono sempre più convinto che anche l'audi sia suo fratello no io faccio ancora troppa fatica a capire chi può essere ai capelli che gli partono in alto come bray wyatt che anche a boh dallas come si ripartivano così è come altezza fisicamente ci assomiglia anche secondo me è lui posso dire che questa citazione è molto bella sì albito reti complimenti è vero è vero è vero è vero ale può poi non vincent boh non lo so no è troppo era troppo basso per essere vincent e aveva la pancia vincent non aveva la pancetta fisicamente era boh dallas fisicamente poi magari non è lui però fisicamente era boh dallas allora durata di più l'entrata di wyatt o di undertaker lì se la giocano se la giocano era ai livelli degli ingressi di undertaker quindi proprio si struggente diciamo che avevano poche cose da fare in puntata che hai detto dai facciamo quel quarto d'ora 20 minuti di ingresso così recuperiamo del tempo è stato veramente infinito cioè dopo 10 minuti di puntata volevo voglia già di non guardare la puntata solo previsto di nove minuti e mezzo di ingresso ciao chi merce ciao 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 chi merce anguri anche a te buio e quindi niente continua questa questa fai da a foglia di segmenti avranno ancora un mese di segmenti che culo niente tutte le settimane magari anche con i quattro e poi probabilmente si qualcosa o a livello video a livello proprio il ring ci sarà almeno secondo me che magari nei night tipo passerà abbastanza inosservato continuare questa cosa poi in way at ancora audi sì che poi bray wyatt ha cominciato a lottare nei nei live event quindi magari vorrà riprendere la forma ci sta ci sta a proposito di riprendere forma c'è stato il meglio fra solo si coa e shimus e con solo si coa che ha battuto anche shimus e continua a farmi sempre più paura perché ormai ha battuto chiunque di dentro e quindi boh ok lo stanno rendendo imbattibile non a parte star è un po più credibile adesso che nxt non so come mai sì per carità siete che magari boh discorso della stable non lo so però perlomeno è un po più credibile almeno quello che adesso ha più senso quando era nxt era proprio c'è tipo ogni settimana spuntava aveva una mini fida con qualcuno ma non si costruiva niente intorno esatto qua con con la bloodline almeno si crea qualcosa io ero convinto che andasse a battere dreamy kintyre invece ha battuto shimus però c'è pesante anche perché vai a vedere l'incontro è durato tendenzialmente pochino sì e c'è shimus dopo che esce dalla battaglia con gunter durate 14 ore il meno di 10 minuti di perde con solo si coa sono quelle cose un po' io più più vedo shimus e più lo voglio vedere in giappone e lui perché lui se ne batte le palle perché lui se ne batte le palle cioè lui ci stale alle botte io più lo vedo più lo vedo più lo voglio vedere in giappone shimus prima che finisca la carriera deve farmi sto favore io vengo a vedere shimus perdere però in realtà c'è alla fine a livello quello che ci serve per costruire gli avversari comunque sono sicò è giovane in rampa di lancio poi singolarmente c'è solamente lui adesso lì in mezzo perché la roman race non è quindi è normale che adesso puntino su di lui della nella famiglia poi è da vedere come come finirà e se finirà il discorso bloodline quindi c'è un po da non c'è da su non mi stupirei nemmeno se poi ci sarà una fai da solo si coa contro roman reigns alla fine cioè i due singolo ma anche farlo adesso ovviamente però tra qualche mese non mi stupirei nuovo lesta nuovo reigns si è imbattibile al momento quindi vediamo cioè a noi vabbè sapete che non piace è meglio di reigns è comunque sì per lo meno è credibile per quello che fa è che non mi piace per carità è dedicata umaga era suo zio vero se non sbaglio e penso di sì mi sembra suo zio per carità è dedicata a suo zio la mossa finale ma a me non piaceva già umaga la trovo veramente con la pollicciata lì è però non mi piaceva già quella di umaga quindi figuriamoci facendo la sossico prove è anche difficile dargli un move set come quello di scimus dove saprebbe farlo cioè saprebbe farlo lui cioè bisogna vedere è vero anche questo sì però di lui in prima di lui proprio in prima di lui umaga non era il papà di no no di roman reigns chi è il papà più no umaga se non sbaglio no mi sono non mi ricordo certo ci sono tante di quelle parentele però no è proprio zio zio perlomeno zio di primo grado ecco non mi ricordo se era umaga sicca ecco il papà di signor marins ok però vabbè abbiamo avuto questa cosa che ha portato poi al a un segmento post match con un po di gente che si mina c'è stato il ritorno di do mckintyre come chiede al fa la coppia con scimus la settimana prossima per andare contro gli usos recupere un match esatto quello che dovevano fare un mese fa un mese e mezzo fa e quindi finalmente vediamo quel match che può venire molto bene perché come coppia scimus pachintyre può fare può fare parecchio bene con gli usos poi secondo me possono anche trovarsi perché sono abbastanza diversi quindi può venire bene e loro sono la famiglia più grande della storia del wrestling e molto probabilmente sì ma perché c'è il problema che nelle isole samoa e sono praticamente tutti parenti c'è questo questo strano intreccio di praticamente tutte parentele e quindi diciamo che se esce un samane fa il lottatore probabilmente è cugino di qualcuno che già lì c'è samoa jo fa parte anche lui di quella parentela tutti non si sa poi sono tutti i cugini lì sono misteri delle delle vecchie generazioni che a quanto pare niente tra parenti esatto avevano poca gente quindi si esatto esatto ciao jacopo ciao 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 c'è 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 fatto un emel wc sia ogni tanto spunto fuori qualcuno che fatto per carità non è niente di però per lo meno sul ring ci sa stare ci sa stare non fa molto di più finisce lì c'è di meglio però ben c'è anche di peggio quindi sì non è meglio ricordiamoci che la major league agli occhi del pubblico è passato che lui e ammerson sono due campi e due fenomeni è tanto per esserci conto quando la mediocrità la fa da padrona invece il cuore della ring of honor quelli di gates of agony non penso non lo so proprio è che io non li ho praticamente mai sentiti perché facevano cagare e fanno tuttora cagare i due gates of agony e dovrei vedere dovrei controllare anche perché però il nome di uno dei due se non di tutte e due fanno più pensare alle isole tonga quindi magari il tamatonga e il tamaloa di turno quindi magari quella parte lì che anche lì ci sono un sacco di parentele tra l'altro sì 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 non so vabbè bisognerebbe fare qualche ricerca così su due piedi faccio fatica a capire se sono però sulle isole tonga ci si sbaglia perché c'è dio a q e poi tutto il resto sempre saluti signora q abbiamo avuto anche il match per il titolo femminile ronda rausi ha battuto anche rodriguez in quello che secondo me è stato il miglior match di ronda contro una che doveva fingere un infortunio quindi rendiamoci conto come sono stati gli altri non è un match fenomenale ma comunque qualcosina ha dato probabilmente anche per il minutaggio perché ha dovuto un voto dove più o meno quindi hanno avuto un po' di tempo con ronda siamo abituati a meno tempo era che rodriguez comunque perlomeno sul ring ci sa stare rispetto a sciocci esempio tanto esatto quindi ci sta ovviamente hanno puntato molto sull'infortunio quindi è giusta anche la vittoria di ronda soprattutto per quello che è avvenuto dopo direi di passare subito hai qualcosa a dire su questo match o passiamo oltre passiamo al post match passa oltre passo in questo banner c'è anche lo zampino di leo che è passato e ha scombusi se c'è chiaramente la sua fiera quella perché ma perché la metamorfosi di charlotte flair in share ormai è evidente esatto e quindi niente è tornata charlotte flair ha battuto ronda abbiamo una nuova campionese tutto questo in 30 secondi che schifo tutto tutto molto schifoso nonostante il pubblico ha dimostrato di essere contento e cioè a sto punto ne parlavamo nel gruppo charlotte flair tanto vale tanto ormai per incorre il record di suo padre facciano in fretta a darle i 16 titoli o se dire che però questi 16 titoli se poi tipo regno dura 20 giorni al massimo servono veramente a poco e beh ma il rick flair storicamente anche lui i titoli li ha tenuti per poco tempo perché se no non saresti stato 16 volte campione cioè come aveva detto un avversario di rick flair non mi ricordo chi quando aveva tipo il decimo tredicesimo titolo ma io sono stato campione vuol dire che l'hai perso 12 volte però quindi non sei imbattibile anzi cioè il concetto alla fine è molto e però se mi devi dire scegli una campionessa così tra charlotte flair e ronda in questo momento scelgo comunque charlotte flair io scelgo di non avere più il titolo se devo scegliere tra loro due sì beh però se mi allora mi metto charlotte flair perché charlotte flair perlomeno quando poi partecipa perché poi si prende tante pause lei però quando partecipa poi perlomeno si impegna ed è presente ronda rousy non si impegna ora non sappiamo se è perché magari si riprenderà un'altra pausa ronda se l'ha scaduto il contratto però non ho letto niente di tutto ciò quindi in teoria non so boh sì ronda si trova bene sì patente su ring si è trovata bene negli ultimi mesi negli ultimi mesi seconda run chiamatela come volete soltanto con racchè ma forse a merito anche del fisico di rachel che può lottando di forza la gente si fa fare dell'altro non lo so però si in cassa un morning the best e paziente si si nobile ha detto che la sfidava e ronda subito accettato si può avere un sono fan del delle sfide appena tornate vabbè no no quello ma quello ma la cosa sente che costruzione si si è allucinante in un minuto di pomo hanno costruito tutto ale ci ricorda che con i titoli del xd in realtà era già tutto a posto quelli di scena si sono stati stati più lunghi si si rispetto scusate non tolto la funeriva però si è sino anche lui si sedici mi sembra anche lui penso ha avuto poco ricambio già la fine c'era sempre lui si shout per me fa cagare anche solo c'è inguardabile poi mi dà troppo fastidio su un sacco di cose quindi c'è penso sia lì solo perché figlia di rick flair però vabbè per il resto vediamo non so quanto durerà questa cosa penso poco poi in realtà il il regno di charlotte vediamo poi come come gestione un po la cosa però sì no via da vedere anche perché poi non si sa nemmeno che avversarie può avere di fronte adesso perché è ritornata così non magari subito se ronda c'è magari a royal rumble ci sarà la rivincita con ronda non lo so bisogna vedere sì hai anche poche poche avversarie al momento per il tipo di rocker che hanno a smackdown perché se guardiamo smackdown devi metterci una hill e il hai china ronda poi chi c'è o o tiri fuori bailey e compagnia e compagni che tanto loro le fanno passare sarebbero di roma sono praticamente sempre anche a smackdown e sia c'è c'è poco ricambio che gestiscono male ogni tanto questa cosa da avere tot face e tot il cioè molte volte sono sbilanciati il fatto che melzer vabbè sì ok la nominata ci sta per lui però non per me poi lì ma poi sono sempre pareri personali o per melzer adesso del decennio ovvio che si basa comunque sulle statistiche su quante volte è stato campione però io ribadisco che è meglio un titolo da di cinque anni che dieci titoli cinque anni però comunque quello come dice ventuno a dare tutto io sky e a posto magari c'è sempre sai lì a smackdown non andranno mai un cazzo di niente ogni tanto io voglio io voglio crederci a xayali io continuo a volerci credere a un certo punto riusciranno a a pusharla del centro anche perché voglio vedere effettivamente com'è come dicevamo la volta scorsa abbiamo sempre vista a sprazzi vogliamo voglio vedere effettivamente com'è quindi fatele fare per tutti gli incontri seri e poi finalmente possiamo un paio di settimane fa sembrava volessero puntarci qualcosa e poi poi ha messo c'è da dire che però ha messo la settimana scorsa in difficoltà a rachel sì forse è quella che l'ha messo più in difficoltà rispetto alle altre quindi vediamo se secondo anno nuovo magari riesce a fare qualcosa di più in realtà io sarei molto contento di questa fai da uno dei classici uno dei più classici cina giappone esatto dopo c'è yosuke può aiutare tantissimo chiunque ci mette una che ha fatto tendenzialmente poco poi è una che poi è quella che si allena di più è una che lì ci sta benissimo perché lo dimostra appunto tra gli allenamenti eccetera poi è una che ha un trascorso di sette miliardi di arti marziali che ce la facciano vedere oppure vogliono aspettare proprio il momento che è preparata perfettamente non lo so sa l'inglese comunque sa l'inglese si si capiremo passando oltre abbiamo avuto una celebration dell'anno 2022 di hunter vediamo poi i vari avversari le manate che ha dato in faccia a quelli che passano di lì celebrazione inter botta da pan stroman letta e nel video non ci sono bla 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 sono messi un po le mani addosso ad un po di casino arvatore cochet e giovanni vinci e l'altro nome kaiser ludwig kaiser e quindi è stato la solita mega rissa da da pre a match titolato metto lato che ci sarà nelle prossime settimane in realtà la posso già dire però vabbè sarà il 13 gennaio quindi non la settimana prossima quella dopo ancora quella dopo ancora era abbastanza nell'aria al mestrano stroman e gunter quindi se lo mettono tra due settimane molto probabilmente prossima settimana stroman riesce a picchiare tra virgolette gunter così pregunter vince l'incontro si stavo leggendo un attimo il messaggio se mai al contrario caglio sky è l'unica delle tre che sta facendo bene belli che ha fatto schifo da quando è tornato e gli sky delle tre l'unica che sta lottando bene poi ne ha sempre avuto dei limiti in america cioè sempre dovuto trattenere molte quando poi hai il freno a mano tirato sbagli anche di più tra belli al momento delle tre chi ha deluso è belli che da quando è tornata la forma deve ancora trovarla adesso sky invece ha fatto bene la kotakai è tipo buono non so non so cosa dire è la terza è la terza del gruppo e va bene tanto fa tag e quindi niente abbiamo questo questo match ti aspetti la vittoria di paul stroman e te l'ho detto prima prossima settimana stroman se succederà qualcosa picchia gunter e così gunter non è stroman carito io insisto poi c'è stata anche l'intervista di di mcintyre che mi ha mi ha appoggiato involontariamente l'incontro vero dove perde o se perde è contro di mcintyre quindi ormai sarà posta roja rambo se non addirittura avreste il meni ha tratto un gunter di roma quintana verso il media sarebbe bello bello si potrebbero si potrebbero costruirlo bene visto che comunque di mcintyre ha già lanciato questa cosa qua e non hanno ancora fatto incrociare loro due può essere che riescano a tenerselo progressi del media veramente comunque ci vuole un avversario abbastanza di spicco per punter e best roman va bene per dargli un più uno poi sì no ma anche perché si vede che su gunter ci stanno proprio puntando cioè per loro gunter è un main eventer quindi cioè si vede cioè non e quindi se lo deve perdere il titolo deve perdere con gente con appunto film uso piuttosto che mcintyre gente sì ma il match può venire carino gambe match non lo so secondo me sarà il match che serve per far vedere la potenza di di gunter è diverso cioè alla fine si può uno schiaffo e un pugno per una maggior parte del match paio di body slam perché qualche slam lottare contro stroman è difficile c'è uno che può fare un incontro bello contro stroman è uno agile uno come gunter che deve lottare sulla forza e rischia di essere pesante cioè va avanti veramente al sarà un incontro che va avanti a shop molto probabilmente di gunter a stroman più che altro però sì e non mi aspettano anche un match lunghissimo no c'è una decina di minuti poi stroman lo devono mettere contro quelli agili per fare un incontro non dico bello ma perlomeno che si fa vedere però non lo so in realtà se stroman si c'è a problemi a prendere delle botte non credo non credo non si è mai sentito dire nulla riguardo quindi non ha mai avuto neanche tante occasioni in realtà per fare dei match di questo tipo secondo me no anzi l'unico che aveva avuto era stato con lesnar dove lesnar a un certo punto l'ha colpito stiff per punirlo ok quindi diciamo che la partenza non è buonissima no perché ora non mi ricordo cos'era successo tipo stroman involontariamente l'ha colpito stiff ma tipo in un momento dove non c'era bisogno no che lesnar è un altro che se ne batte le palle dico perché poi lui colpisce stiff e se ne prende non non si fa problemi lesnar dal punto di vista lì si è fatto problema boom ginocchiata nello stomaco subito per metterlo sì anche l'esnar mi sa che è uno di quelli che meglio lasciarlo stare non farò la parbiata e preferirei se devo far arrabbiare già non bisognerebbe far arrabbiare nessuno di quelli ma proprio lesnar credo che sia quello da evitare completamente ok avevo messo un banner match annunciato in realtà due li abbiamo già detti che sono usos macintoshimus e gunther stroman quello che abbiamo appena detto ce n'è un altro che è un match di qualifica per la rambol è vero è vero è vero ricorso tra ricochet e top dolla che è una presa per il culo allucinante che la settimana scorsa ha bocciato malissimo non ho capito che mosse doveva essere guardare a letto e quindi giustamente l'hanno messo contro contro il croce che sappiamo che non è uno che fa grandi cose dalle corde hanno fatto un segmento nel backstage dove si sono andati brutto e va bene bene vediamo cosa ciao cliff ciao ciao buon anno anche a te buon anno buon anno cliff buon anno di sì posso dire che ricochet è ovvio che entra nella rambol se non entra nella rambol è perché c'è qualcuno che lo che lo sfida che lo fa perdere il match però è fondamentale uno come lui nella rambol anche perché la rambola è un incontro tendenzialmente brutto qualche momento spettacolare però lo devi mettere e se non te lo dà uno come ricorché ti te lo dà top dolla esatto quindi vediamo è ricorché di quelli che nell'erroia a rambo devi metterlo tra i primi quando c'è poca confusione così gli fai vedere due o tre mosse poi appena c'è un po più di gente prendi lo cacci via ciao sì sì è uno di quelli che puoi anche lanciarlo fuori da ping e lui rimbalza tra due chilometri quindi va bene ok siamo già arrivati al main event it's time scusa quella di martedì quella di martedì scusa john cena e kevin owens hanno battuto roman reigns e semi zane cosa mi dici di bello di questo match allora è stato tanto l'incontro che ci si aspettava non era chiaramente doveva essere un incontro così proprio perché come dicevamo all'inizio sina e non uno non può reggerle fisicamente due no fisicamente ovviamente dovrebbe allenarsi di più quello ci mancherebbe ma proprio non può per il lavoro che fa attualmente non può permettersi di infortunarsi quindi lo sia visto poco e ci mancherebbe come ci sta lo schienamento su semi zane e quindi la prossima settimana venerdì prossimo se non già martedì va bene lunedì sera vedremo il lo scazzo che avranno su semi zane che è stato schienato perché comunque ha fatto perdere roman reigns dopo un sacco di tempo e sì mi aspettavo già qualcosa in realtà durante il match anch'io anch'io poi proprio se ci hai fatto caso quando hanno inquadrato quando erano fuori dal ring si continuano a guardare e semi zane però stava chiedendo scusa praticamente sì quindi poi magari è successo qualcosa e lo faranno vedere dopo sui social ci sta anche quello sì 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 match 15 niente di che c'è stato un paio di momenti era semi zane si è tagliato sul naso e al fine messa e vista anche always che si era aperto tipo l'occhio si è aperto l'occhio sul naso di semi zane esatto quindi a parte quei due momenti lì il resto va bene si ha fatto il suo il pubblico era contento a me in questi incontri fa morire kevin owens che quando lotta contro quelli vabbè con john cena c'è anche l'ho anche affrontato normalmente però quando lotta con quelli o part time oppure con questi vostri l'anno scorso lo vedi proprio che si diverte sì sì beh lui si si diverte proprio a lottare con quelli così come comunque una leggenda versina comunque anche se a pochi più anni di kevin owens è giovane questo di giovane va bene rispetto a john cena giovane per me si avvicina sui 40 però che di nuovo insomma è da l'ora che c'è meno è nato in totto john cena 45 sì quindi non è che però si si diverte quando l'anno scorso con austin va bene era si vedeva che aveva sorrisone così per tutto l'incontro e doveva essere il quindi non però lo vede si diverte proprio infatti c'è quello secondo me è il migliore da mettere in queste circostanze a di là ora anche di storyline siccome dicevo si esce completamente ma ci sta alla fine e poi anche all'inizio che ha detto a semi zane che basta credere a roman reigns durante prima dell'incontro cosa del genere si è sentito bene cosa diceva l'albitro in un paio d'occasioni quando usavano la telecamera quella dell'angolo di china e owens si è vero che di tutto quello che diceva l'albitro da sentito però vabbè è vero non si è accorto che aveva il microfono leggerissimamente alto esatto che gli diceva di piacere al momento dove c'erano reigns e owens a terra dovevano andare pian piano verso ma anche perché nella puntata notturna io l'ho vista stamattina che si può vedere quella che fanno nella durante la notte e non ti fanno isolano l'audio dei commentatori quindi quando chi lo guarda in realtà è isolato e quindi si sentono però tutto il resto si sente chiaramente se c'è proprio la il il suono dell'arena in pratica poi c'è sì in questo caso c'era l'arbitro che gli ha dato il via per fare lo tag ok va bene a ci sta alla fine non lo sa va bene non poteva sapere che quello la era ri attaccato con la telecamera con la anche col microfono non solo con la telecamera che con microfono quindi abbiamo avuto johnson a fine anno ci ha fatto questa sorpresa abbiamo avuto charlotte flair a fine anno ci ha fatto anche lei questo sorpresa è quella di sì ne eravamo preparati e sapevamo che sarebbe andata così quella di charlotte flair che ha un posti vabbè ce la facciamo andare bene lo stesso poi vediamo cosa cosa ci raccontando nelle prossime settimane siamo sempre più verso zen e contro romarense comunque ribadisco dipende tutto da loro adesso ripete ripete se vogliono fare quelli bravi che seguono anche il pubblico ma la prossima la prossima settimana è già abbastanza o esce già la prossima settimana o è un inizio di uscita la prossima settimana sì c'è sempre l'elimination chamber che a montreal e quindi potrebbe essere il pay per view giusto per fare qualcosa però bisogna vedere appunto se fanno difendere il titolo elimination cembro oppure se fanno una sorta di primo sfidante è arrivato un è stato a fare i saluti un buon anno a tutti lasciate a tutti lasciate a tutti lasciate a tutti la cia io non parlo molto bene io non parli italiani come voi e tenga di sana la tisana già adesso stasera cosa fai allora niente praticamente a tutti lasciate vedi il bonducci ma facciamo già setting però no dobbiamo chiudere aprire chiudiamo un attimo questa vediamo già setting sì tanto qua abbiamo finito era la puntata per scala abbiamo abbiamo snocciolato ormai quindi posto e si è stati perfetti bravi grazie grazie io non ho scritto nulla non ci sono le prove secondo me è un po di pro vabbè poi è la stessa poche 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 esatto buon anno grazie mille per averci seguito buon anno ci vediamo state qua state qua esatto a quelli che si seguono su youtube mettete un like iscrivetevi state qua lo stesso guardate guardate il video che vi viene suggerito dopo abbonatevi sul canale twitch del lato via le linghe per potrete rivedere il gioccietto esatto in tre siamo riusciti a dire tutto perfetto buon anno buon anno grazie mille a auguri 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 grazie mille a auguri